Grazie a tutti! Loretana Recciso, bellissima! Benvenuta! Bentornata! Eccoci tu! Devo intanto ringraziarti per i fiori, scusami ma non sono abituata a riceverli, almeno una donna. Una domanda, poi avremo modo e maniera di vederci a quelli che è il calcio domenica più approfonditamente, però vista le esperienze che hai fatto, sei andata proprio sul luogo del delitto, avresti poi fatto quella scelta che facesti quando Albano era sull'isola dei famesi? Sapevo che me l'avresti chiesta, no, col seno dell'eccezione.